Ma almeno sforzati di parlare in italiano davanti alla creatura? O vuoi che mi esce fuori come te? Almeno posso andare a vedere la televisione? Giuseppe, gentilmente, fai come ti suggerisce la mamma. Vatti a codicare che fuori l'ora si è fatta tarda, su. Ma come parli? Ma come parlo? Va a dormire, va, se no te hai visto.